Facebook è un'azienda privata, però ormai ha assunto una dimensione tale che ha un ruolo importante nella vita democratica del paese, quindi volevo chiederle se è legittimo che in qualche modo sia Facebook a decidere su argomenti di questo tipo o se devono essere invece i giudici o comunque chi fa le leggi in Italia a decidere come comportarsi. Io credo che la decisione spetta ai giudici, adesso le situazioni sono complicate e anche la vicenda è complicata perché si intrecciano questioni legate alla libertà di manifestazione del pensiero e anche di pensieri non condivisi da noi, da molti di noi, da tutti noi magari, questo. E poi il problema specifico che non riguarda tanto la libertà di manifestazione del pensiero quanto il rispetto di una norma costituzionale che è la dodicissima disposizione transitoria, cioè l'esistenza o meno, la legittimità o meno, in Italia di un partito fascista o di ispirazione fascista. E il terzo argomento, quello a cui lei accennava, su questioni così delicate comunque, l'intervento in prima battuta di un privato come Facebook, che è pur sempre un soggetto privato, insomma non può essere definitivo, non può essere l'ultima parola. L'ultima parola aspetta il giudice. Allora, io vorrei limitarmi, poi allarghiamo il discorso ovviamente se le ritiene, alla questione legata diciamo a Casa Pound e a Forza Nuova sostanzialmente, prendendo soltanto spunto da questa vicenda di Facebook, perché appunto ritengo che Facebook ha le sue regole, ma non può essere il decisore ultimo. Anzi faccio una previsione, non so quanta avventata o meno, perché ovviamente non conosco, ne ho intenzione di conoscere, presumo che chi si è visto chiudere i siti ricorrerà un giudice e quindi il giudice alla fine avrà l'ultima parola, come è giusto che sia anche su questa vicenda. Però io la questione che pongo è un'altra. Noi abbiamo oggi in Italia una questione sociale importante, delicatissima, che appunto sono due associazioni, in realtà una galassa di associazioni, che si ispirano al fascismo. Qui bisogna prendere una decisione e la deve prendere il giudice. Lei diceva il legislatore, ma il legislatore ha già in qualche modo stabilito un suo quadro. Le accennavo prima alla dodicesima disposizione transitoria. Cioè in Costituzione si dice esplicitamente, uno che c'è una libertà di manifestazione del pensiero di chiunque, anche delle tesi, delle affermazioni, delle ideologie più barbare, allucinanti, non condivisibili e quant'altro, due, che c'è un divieto di Costituzione, cito le parole della Costituzione, in qualsiasi forma, di Costituzione in qualsiasi forma del partito fascista, per le vicende a noi legate, nella nostra storia. Noi abbiamo due leggi molto chiare, la legge Scelba e la legge Mancini, che stabiliscono, che danno attuazione a questa disposizione costituzionale, e che stabilisce appunto quali sono le forme, cosa si debba intendere per la ricostruzione del partito fascista in qualunque forma. In questa, nella legge Scelba in particolare, in questa normativa si dice, per esempio, che ci sono anche, e devono essere condannati, anche tutti quegli atti, come dire, propedeutici per la ricostruzione in qualunque forma. Ma per questo è il reato di apologia di fascismo. E l'apologia di fascismo non è tanto, dice la Corte Costituzionale, dire, come dice una citazione, io non lo direi mai ovviamente, beh, ma in fondo il fascismo non ha fatto male, o parlare anche bene del ventennio. Dal punto di vista storico c'è un dibattito, c'è un dibattito vivace, si sostengono anche tesi, si sostengono anche tesi, non dico proprio favorevoli, ma anche tesi favorevoli al fascismo, sì perché no, ma magari comunque c'è una discussione vivace, ognuno si assume le responsabilità storiche e personali dei suoi giudizi. L'apologia del fascismo è qualcosa di diverso e di più. Noi abbiamo avuto ancora due casi, due casi, c'è anche un terzo, due casi in Italia di scioglimento di associazioni, perché ritenute ricostituzione del partito fascista negli anni 70. Ordine nuovo e alleanza, come si chiama, ma alleanza nazionale, no alleanza nazionale, sì forse era alleanza nazionale, due associazioni che sono state sciolte perché ritenute ricostitutive del partito fascista. Dopo che cosa? Dopo due sentenze passate in giudicato, con un accertamento giudiziario nel rispetto di tutti i diritti, i principi di garanzia che hanno riguardato, tanto è vero il rispetto, le dico il terzo caso, che c'è stato un terzo caso, che fu quando ci fu un processo nei confronti del Movimento Sociale Italiano, che lei sa, ben ricorderà, è un partito anche consistente, rappresentato in Parlamento in modo significativo, e la conclusione di quel processo fu che non poteva, pur ispirandosi a quell'ideologia eccetera eccetera, però non era, non poteva intendersi come ricostruzione del partito fascista. Questo per dirle appunto, due casi hanno portato un effetto, altri casi hanno portato un altro effetto. Arriviamo a noi, per quanto riguarda Casa Pound e Forza Nuova, ma anche la Galassia, che rivendica il proprio fascismo, il fascismo del terzo pillegno, se non ricordo male, è una delle parole d'ordine di Casa Pound, quindi rivendica, ci sono una serie di frammentati processi in corso. Io ne ricordo, conosco due, uno a Roma e uno a Bari, che hanno condannato quegli atti di violenza nei confronti di un giornalista, nei confronti di una manifestazione, via di seguito, non tanto per l'atto di violenza, che già questa è sufficiente per condannare ovviamente, ma con l'aggravante di ricostruzione del partito fascista, Bari è stata chiusa a Casa Pound, giusto appunto, perché è ritenuto un partito di carattere fascista. Altri casi non è andata così, quindi quello che le voglio dire è che a questo punto io mi auguro, mi auguro per la chiarezza e il rispetto della legalità costituzionale, che ci sia un processo con tutte le garanzie per gli imputati, così che si sciolga questa questione, che è molto delicata, tu piano democratico. In quella sede gli esponenti delle forze che verrebbero inquisite avranno tutta la possibilità di dimostrare che lo slogan del fascismo, siamo fascisti nel terzo milenno, in realtà è un modo di dire, ma non comporta l'essere effettivamente fascisti. E se invece così dovesse essere, cioè che in effetti un giudice accerta la ricostruzione del partito fascista, si fa quel che si è fatto negli anni 70. E non è proprio per evitare l'equivoco, perché qui si gioca sempre su un equivoco, c'è una limitazione di un diritto politico, della libertà di espressione, no. Qui o siamo di fronte ad organizzazioni illegali e allora si sciolgono. O siamo di fronte a organizzazioni legali e allora dicessero quello che credono, anche le cose meno condivisibili. E va bene così. È ovvio che non quei partiti, ma chiunque, anche il partito più democratico possibile, non so quali sia, cioè quello che a lei piace, il suo partito, lo quale che esso sia, se poi commetto violenza è chiaro che, perché anche qui ogni tanto si fa equivoco, il fascismo è un aggravante. La legge Scelba, che le citavo prima, se non ricordo male l'articolo 4, ma non importa, stabilisce che o l'apologia del fascismo è un reato, e poi c'è un aggravante, se questa apologia di fascismo viene commessa per mezzo stampa. Allora non c'erano i social, quindi non ha potuto dire per mezzo social. Però è evidente che la capacità espansiva che oggi abbiamo, ieri erano i giornali, oggi prevalentemente dei social, ma in qualche modo comporta un aggravante. Per questo bisogna essere molto cauti e attenti su, come dire, i messaggi, mi ripeto, non tanto o non solo odiosi, non tanto, non solo, neppure genericamente violenti, inneggiando alla rivoluzione, ma è lecito inneggiare alla rivoluzione, quanto appunto apologia di ricostruzione di un partito che in Italia non può esserci, perché lo dice la Costituzione, è la nostra storia. Senta, facciamo l'ipotesi che il giudice poi dia ragione a Casa Pound e Forza Nuova. Cosa succederebbe in quel caso? Facebook sarebbe costretta legalmente a rimettere online le loro pagine? Quali potrebbero essere poi gli ulteriori sviluppi della vicenda? No, per questo io ho preso soltanto spunto da quella vicenda, perché quella vicenda, come dire, è intorbidita dalla confusione, da quello che io ho detto, cioè non si sa bene se questi soggetti possono in qualche modo intervenire e in che modo intervenire. Per quanto riguarda il fatto specifico, c'è un semplice problema che mi riguarda, ma probabilmente se non l'ha visto riguarda anche lei, cioè tutti noi. Noi non abbiamo visto, io non ho visto il sito, il contenuto del sito, quindi non posso, non voglio, non sono in grado di giudicare, di dare nessun giudizio, francamente di dare nessun giudizio. come dice la Cassazione, se ci fosse stato un simbolo che non fosse riproduttivo o inneggiasse a violenza uno, apologia di reato in realtà, ma soprattutto violenza di tipo fascista e quindi apologia di fascismo, beh, questo lo può valutare soltanto un giudice che si legge e che si guarda quelle pagine. Io su questo non mi posso pronunciare. so che, quello che sappiamo tutti, che Facebook ha una sua, ha sue regole stringenti, come lei sa, come dire, la cancellazione sulle pagine Facebook sono diverse, sono frequenti, io credo anche, devo dire, più in generale che sia a questo punto necessario, vista la diffusività del mezzo, l'importanza del mezzo, Facebook e i social network in generale, che ci sia, come dire, una difficile regolamentazione, perché qui tocchiamo, ma stiamo allargando il discorso, tocchiamo un problema molto delicato dell'uso incontrollato e difficilmente controllabile dei social. Ora, come, e questo è un problema, perché lo leggiamo tutti, non soltanto le fake news, quello che leggiamo tutti noi sui social a volte ci fanno rizzare i capelli in testa, cioè, sono assolutamente incontrollate, ci sono, chissà perché, ci sono problemi anche di psicologia umana, in cui si scatena il peggio su questi network, sotto la pretesa dell'anonimato, poi, ogni tanto, per fortuna, non c'è, quindi, quindi va bene. E quindi, c'è un problema, in qualche, Umberto Eco diceva una cosa saggia, che, purtroppo, internet è pieno di imbecilli, ecco, appunto, il combattere contro l'imbecilli è molto difficile, poi, se gli imbecilli sono anche mascalzoni, si deve intervenire, ma, come dire, il crinale tra imbecillità, sciocchezze, idiozia, gogliardia, magari, e criminalità, o violenza, o incitamento alla violenza, è un crinale difficile, una soglia, una linea d'ombra, tra l'altro, che osciglie, e vi di seguito. E allora che facciamo? Non facciamo niente? Ecco, io credo che non si possa fare niente, bisogna in qualche modo avere delle regole, regole, alcune regole ci sono, ma funzionano male lentamente, le faccio, ho soltanto un esempio, tra i mille possibili, se no non finiamo più, le farò soltanto un esempio, l'esempio forse più classico e più tradizionale, se qualcuno mi insulta, se qualcuno vi dipende il mio onore, io posso fare querela, e lo posso fare, posso fare querela. Ecco, però ci sono due problemi per quanto riguarda la querela, devo sapere chi mi ha offeso, e non è molto, molto, a volte, molto spesso, non è facile su internet, perché si è coperti dall'anonimato, giusto appunto, e poi i tempi della giustizia sono infiniti, mentre su Facebook, ecco, bisognerebbe intervenire su questo, cioè avere delle garanzie in base al quale, se io dico, a un ipotetico tu, sei un ladro, intanto mi censurano, e poi vediamo, se è il ladro, mi ripubblicano, o comunque una regolamentazione che non è per nulla facile, perché in qualche modo bisogna contemperare la libertà di espressione, la vivacità del linguaggio, fino a un certo punto la vivacità del linguaggio, e però, insomma, la dignità delle persone offese, e questo è un problema, lei lo sa, lo sa, lo leggiamo tutti, insomma, quanti insulti gratuiti ci sono, non è sopportabile questo, c'è un problema di libertà di manifestazione del pensiero, certo che c'è, e quindi il contemporaneo è difficile. Grazie a tutti.